Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, ha scoperto nel comune di Bernate Ticino, Milano, un opificio clandestino adibito alla produzione illecita di sigarette e sequestrato 400 kg di sigarette contraffatte, nonché oltre 10 tonnellate di tabacco trinciato. Sono due le persone tratte in arresto e otto quelle denunciate dagli specialisti del GICO di Napoli, che da tempo stavano seguendo l'organizzazione criminale, registrando negli ultimi mesi frequenti trasferte effettuate da alcuni soggetti partenopei, con precedenti perfatti di contrabbando, alla volta dell'area Bernatese, al confine occidentale della città metropolitana di Milano, a ridosso della provincia di Novara. I due arresti sono entrambi campani, direttamente responsabili delle illecita attività, mentre gli otto denunciati sono due cittadini bulgari e sei cittadini serbi, trovati a lavoro dentro la fabbrica. L'analisi degli spostamenti e le attività di osservazione svolte sul territorio hanno portato all'individuazione della meta di quei viaggi, un capannone allocato all'interno dell'area industriale del comune di Bernate e Ticino, formalmente indisuso da oltre 24 mesi, tuttavia recentemente rivitalizzato da attività lavorative che si protraiono anche in orari notturni. Al momento dell'intervento, le fiamme gialle partenopei si sono avvalse della preziosa collaborazione della Guardia di Finanza del Capologo Lombardo e in particolare della Compagnia di Magenta e dei Vaschi Verdi del Pronto Impiego Milano e hanno sottoposto a sequestro una linea industriale completa, composta da sofisticati macchinari e attrezzature adibita alla produzione di sigarette di producenti marchi contraffatti Chesterfield e Winston. Sono state così complessivamente sequestrate 10 tonnellate di tabacco sfuso, trinciato ed essiccato, 4 quintali di sigarette contraffatte con marchi Chesterfield e Winston, già confezionate, 1 milione di pacchetti per il confezionamento delle sigarette, 5 milioni di filtri. La capacità produttiva dell'intera filiera è stimata in oltre 2 tonnellate di sigarette al giorno. L'odienno sequestro conferma le recenti evidenze investigative che attestano la scelta strategica delle storiche organizzazioni contrabbandiere napoletane di ramificarsi nelle regioni del nord Italia per adattare e sfruttare opifici per la produzione autonoma delle sigarette di contrabbando, riducendo così i rischi legati ai trasferimenti su strada o via mare da paesi esteri, frequentemente e storicamente bersagliati dai sequestri delle fiamme gialle.